705, buongiorno a tutti, benvenuti, questa è Cristian Radio, io sono Fabio Raffi e io sono Lorenzo Masieri e insieme siamo i due piedi, cominciamo bene, questo è Good Morning Milano, come sapete da lunedì al venerdì in diretta tra le 7 e le 9, e si sempre qui in diretta con voi, per raccontarvi un po' quello che succede a Milano, città metropolitana, le notizie che poi andremo a leggere i giornali, le notizie che possiamo darmi in anteprima a questa notizia, perché secondo me non è stata ancora battuta, e sarà tema di discussione, Blitz nella notte di qualche comitato pro mobilità sostenibile, che ha fatto per l'ennesima volta una ciclabile che sicuramente titoleranno abusiva, sicuramente, sul Ponte della Ghisolfa, sapete che il Ponte della Ghisolfa si chiede una ciclabile sul Ponte della Ghisolfa da diverso tempo, il comune non dà risposta o comunque dà risposta negativa, e più volte è stata disegnata, questa mattina l'ho trovata, fatta molto bene devo dire, anzi chiedo al comune di poter prendere spunto a questo punto. L'hanno fatta rossa? No, non l'ha fatta rossa, comunque vedrete che oggi se ne parlerà, se ne parlerà. Bene, bene, e allora altro Blitz appunto nella richiesta, che ormai c'è da anni, di una ciclabile reale sul Ponte della Ghisolfa 3317853555, iniziamo con un po' di musica, Mengoni e Franco 126. Marco Mengoni, Franco 126, 709, bentornati appunto qui su Cristian Radio in diretta 96.2 FM, DAB+, ma soprattutto Good Morning Milano e tutto quello che è di Good Morning Milano lo ritrovate anche sul sito di Milano All News, tutte le settimane, insomma siamo qua a raccontarvi un po' tutta la vita quotidiana milanese e ovviamente con le informazioni con giornali in mezzo sono arrivate notizie nuove sulla ciclabile, giusto? Notizie sulla ciclabile contro ogni aspettativa è stata fatta in serata, in serata, anzi probabilmente nell'ora più di punta in assoluto sul Ponte della Ghisolfa, poco dopo le 19 appunto un centinaio di cicliste hanno bloccato il traffico e l'azione non è stata preannunciata in alcun modo sui social dei vari comitati e mentre il corteo procedeva lungo il ponte alcuni attivisti hanno tracciato con una vernice la pista appunto ciclabile, la manifestazione si è conclusa alle 19.40 con la dispersione dei partecipanti, infatti di solito, questa è la quarta volta che si fa una ciclabile clandestina, quarta volta, se non sbaglio era sempre stata fatta di notte perché comunque... Questa volta è interessante, hanno usato la manifestazione del corteo come... Cavallo di Troia Cavallo di Troia attacca la gente e sulla strada è rimasta poi il segno del passaggio del corteo beh, quarta volta, comune, forse sarebbe la volta buona magari di cominciare a farla anche perché, attenzione, il comune ha detto sì si può fare, la faremo è questa la cosa, è questo almeno un paio d'anni fa, è questo che insomma fa sorridere da una parte e ovviamente arrabbiare i cittadini di quella zona dall'altra, i giornali dicono qualcos'altro, dicono qualcosa sul merito oppure... Siamo partiti in quarta con le notizie, adesso cerchiamo un po' di fare mente locale ma comunque vi annunciamo subito che grande ospite di giornata Alessandro Verri nell'ultima mezz'ora, come sapete, forse anche un qualcosina di più capogruppo della Lega al Consiglio Comunale sapete, se ci ascoltate, che martedì è venuto Valerio Pedroni del PD a fare un po' il punto della situazione sui lavori interni al Consiglio e su un commento o una spiegazione anche delle politiche delle ultime settimane appunto del Comune oggi avremo uno delle prime linee, un consigliere che rappresenta le prime linee dell'opposizione nelle ultime settimane possiamo dirlo, molto molto più coese e unita rispetto alla maggioranza anche sul fatto, pensiamo, della bandiera ad Israele eccetera eccetera comunque toccheremo i principali punti del dibattito territoriale delle ultime settimane e sentiremo anche chiaramente la voce dell'opposizione in tutto questo, Fabio, siamo partiti in quarta con la rassegna stampa, ma è venerdì la gente vuole ridere, vuole ridere, e quindi aspettiamo un secondo per la... ah ok, no no, pensavo, e quindi chissà, no no, ok, sì 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 la gente vuole sbellicarsi guarda, immagini, immagini, ti dico solo questo, ci sono notizie su San Siro ma io l'ho letta, però l'ho lasciata la pasta a posta per dare spazio a Carlo Monguti dobbiamo darla, perché oggi secondo me ci sono già le prime reazioni commissione su San Siro, insomma, con la presenza del sindaco, insomma, vediamo poi dopo ne parliamo più tardi, prima però ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde per sapere la situazione del traffico su Milano in questo momento le varie principali arterie che entrano nella nostra città, come sarà la situazione beh, lo sappiamo, dobbiamo collegarci in diretta con la redazione di Luce Verde Levante con sirene, 7-17 minuti, bentornati su Cristian Radio, bentornati a Good Morning Milano abbiamo detto appunto della ciclabile clandestina, così la definizione dei primi giornali che stanno battendo la notizia nata tra ieri sera e questa mattina sul ponte della Ghisolfa in seguito appunto alla manifestazione intorno alle ore 19 di un centinaio di manifestanti in bicicletta che hanno, diciamo, fatto un po' da, come si dice, hanno eluso no, eluso, 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 eluso i controlli, come si dice in questi casi, hanno distolto l'attenzione e mentre passavano qualcuno ha disegnato la ciclabile lunga qualche centinaio di metri come pollicino come pollicino, lasciavano lungo la strada un piccolo pezzo di vernice che appunto è andato a costruire per la quarta volta una ciclabile clandestina sul ponte della Ghisolfa e la cosa però che insomma fa riflettere è che per la quarta volta ci sono le promesse, molto evidente del comune, che sarà incazzato nero diciamolo, ma comunque le promesse la facciamo quella ciclabile e quindi ecco perché i cittadini invece sono esasperati e si mettono da soli a disegnare la linea bianca precedente, pericoloso, non lo so, vedremo e staremo a seguire. Vedremo, vedremo, beh intanto l'importante è che ci siano gli occhi sempre puntati su questa vicenda, perché una delle nostre grandi battaglie a parole è quella di avere la ciclabile su tutta la circonvallazione, come sappiamo. Comunque abbiamo anticipato San Siro, il discorso su San Siro, grande notizia perché ieri si è tenuta una commissione consigliare appunto sul tema San Siro in cui era presente anche il sindaco Sala che non era alle manifestazioni per Israele, ma poi vedremo, poi capiremo, parleremo anche di quello e ha dichiarato sul tema, leggo testuale, sul vincolo, il nostro orientamento, ah, il vincolo, il vincolo preannunciato dalla sovrintendenza scatterà nel 2025, qual è sostanzialmente il pericolo concreto di questo vincolo, tra l'altro al secondo anello, che farà scappare sostanzialmente le società. Sì, che non si può demolire il secondo anello, attenzione che non vuol dire che non si possa rimettere a posto, che non si è scritto che si possa rimodernare, non si può demolire, non si può completamente stravolgere. Però siccome le società sono già orientate a scappare, sicuramente c'è appunto questo pericolo, questo pericolo viene amplificato, diciamo così, quindi dice sul vincolo il nostro orientamento è quello di ricorrere contro il parere del Ministero della Cultura, che cita la sussistenza dell'interesse culturale per il secondo anello, in tal senso stanno lavorando i nostri uffici e l'avvocatura, sto leggendo Calcio Finanza. Sostanzialmente quindi si vuole ricorrere per eliminare il vincolo che scatterà, appunto non è ancora scattato, ma scatterà nel 2025, che renderà più complicato. Fa sorridere questa cosa, perché il stesso sindaco che spesso mentieri si lamenta di quando ogni volta che si fa qualcosa qualcun altro ricorre al TAR, ricorre agli avvocati, ricorre ai giudici e lui è il primo che adesso lo farà. Ma vabbè, polemica sì, molto, molto polemica quest'oggi con il sindaco Sala per questa decisione, non mi sembra una bella decisione, non mi sembra che ne esca molto bene neanche il Consiglio Comunale, anche se anche qui, come sempre, la maggioranza spaccata, nel senso che al suo interno, non così nettamente, se no forse saremo qui a parlare di nuovi sindaci o di nuove elezioni, ma, no, niente, neanche su questo non si riesce a trovare una quadra e quindi dobbiamo capire un po' come verrà affrontata la questione appunto dal sindaco. Successivamente. Per quanto riguarda San Siro, Milano Today, leggo appunto la testata, c'è un articolo in cui viene mostrato un nuovo rendering di San Siro, ma ne parliamo dopo. No, 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 scusate, stavo facendo le mie considerazioni, no, prego, prego dicevi. Allora, nuovo rendering dello stadio di San Siro, sempre il solito giochino, come te l'immagini? Pieno di alberi. Ve l'ha visto, faccio vedere, invito tutti, qua secondo me, come dicono i giovani, hanno sgravato, qua hanno sgravato, 70.000 posti, che poi è bello che è sempre un gioco al rialzo. Sì, c'è partiti che non doveva essere più grosso di 50.000, poi 60.000, e poi 70.000 e torniamo a rifare uno stadio di 80.000 come adesso ho presentato un concept ieri progettato da Popolus appunto giovedì 12 ottobre l'impianto sarebbe a forma di ovale ricordando lo stadio del Tottenham e ospiterebbe 70.000 persone come quello eventuale del Milan a San Donato milanese il cui concept è già stato questo è quello dell'Inter a Rozzano Inter San Donato Milan posso dire che siete ridicoli scusa lo dico proprio fuori dai denti siamo arrivati al ridicolo che ogni giorno ci sia perché il progetto devi rifare non ce l'hai già al progetto quello che è qua non puoi farlo là sicuramente se lo potevi fare qua dovrei meno spazio lo puoi fare là là c'è più spazio allora vuoi fare ancora più grosso lo stadio e allora veramente non ne usciamo più da questa storia qui non lo so è veramente una di quelle storie che mi lasciano sempre molto 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 perplesso comunque appunto dicevo la commissione ieri c'era presente anche il sindaco la maggioranza si è ritrovata un po' così c'è chi dice no come al solito e non solo i soliti non solo i Ropa Verde non solo Carlo Monguzzi non solo Gorini che abbiamo avuto al telefono ieri ma anche all'interno del PD insomma c'è gente che comincia a dire attenzione qui stiamo forse rasentando il ridicolo e quindi come finirà questa storia ma fra 15 ore ne avremo un'altra notizia da leggere e sarà sempre così sicuramente sicuramente anche perché ieri ci ricordavi che ci potrebbe arrivare un'altra sorta di vincolo che è quello degli europei quello degli europei 2032 sì 2032 ricordiamo c'è la deadline della cerimonia d'apertura per i giochi olimpici 26 Milano-Cortina la spostiamo al 2032 allora a questo punto se la spostiamo posso dire faccio il vecchio guarda dato i tempi che corrono nel 2032 ma non è detto che sarebbero ancora tutti qua eh e quindi lo stadio rimane lì teniamolo su ma infatti secondo me è che passiamo noi passano le trasmissioni passano le giunte comunali ma San Sero li rimane e nessuno lo muove da lì continuiamo invece con un po' di musica adesso è il momento di Kid Laroi Thousand Miles poi ci fermiamo per una piccolissima pausa qualche consiglio per gli acquisti poi torniamo da voi perché sì sì è già passata quasi la prima mezz'ora di trasmissione quindi dobbiamo raccontarvi tante altre cose ma lo facciamo nella seconda parte abbiamo anche poi un collegamento più tardi con Giuseppe Frangi di associazione Casa Testori perché Cristian Radio è media partner di una bellissima iniziativa che parla di periferie e di musica che si chiama Dove inizia la città no? la voce delle periferie nel segno degli annacci Gaber e Testori che va avanti dal 30 settembre e che invece domenica 15 ottobre vede la sua conclusione con un'interessante serata diciamo a chiacchia a fare appunto con Gaber gli annacci Testori le periferie e le voci attuali della periferia milanese ma ne parliamo dopo la piccola pausa appunto sempre qui su Cristian Radio sempre qui a Milano All News sempre qui a Good Morning Milano 7 e 32 minuti dopo la suave voce di Gaia ahimè dovete beccarvi la mia mi spiace mi spiace ma soprattutto quella di Lorenzo Masieri che insomma sì che non è tanto bella soprattutto a quest'ora ma invece sai che al 33178 53555 ci arrivano grandi complimenti per la tua voce calda e sensuale che la mattina sveglia le nostre ascoltatrici pensa cosa sono arrivati a dire seconda mezz'ora di programma Fabio abbiamo un ospite abbiamo un ospite perché Cristian Radio è media partner una bellissima iniziativa che va avanti dal 30 di settembre che vendrà proprio in questa domenica il finale diciamo di questa manifestazione che si chiama scusa dove inizia la città la voce delle periferie nel segno di Gannacci Gaber e Testori è proprio di Testori o meglio usiamo Testori come link perché siamo al telefono con Giuseppe Frangi presidente dell'associazione Giovanni Testori che appunto ci racconterà quello che succederà domenica nella grande finale nella grande finale di questa manifestazione quindi buongiorno a Giuseppe Frangi buongiorno a tutti buongiorno a tutti grazie del collegamento allora grazie a voi prima di tutto per aver fatto questa bellissima iniziativa perché è davvero una bellissima iniziativa che unisce se ho capito bene ma poi chiedo a lei Frangi di spieghermelo meglio quello che erano appunto le periferie raccontate dai tre grandi nominati prima quindi Gannacci Gaber e Testori e quello che sono oggi le periferie giusto? esattamente esattamente cioè l'idea siamo partiti dal fatto che ci fossero questi tre anniversari cioè i cento anni da nascere i testori i 20-10 dalla morte di Gaber e Gannacci e quindi un po' prendendo spunto da questo da questo anniversario ci siamo chiesti ma che come reagiscono oggi queste periferie vedete che sono pieni di grandi creatività stando su Milano di fronte a questi personaggi cioè di fronte ai lavori di questi personaggi alla voce e canzoni di questi personaggi e quindi abbiamo iniziato a ragionare insieme a Marco Garofalo insieme a Riccardo Bonacina che è fondatore Settimanale Vita le realtà che promuovono questa vita appunto vita non profite che è un giornale che da 40 anni racconto in sociale non profite in Italia e l'altra è Casa Testore che è un lab culturale che raccoglie un po' la fiducia del grande scrittore e quindi insieme a Marco Garofalo fotografo a grande amico allievo di Basilico che da da tempo fotografa frequenta e ha costruito legami con questi creativi rapper di periferia ci siamo chiesti abbiamo lanciato il sasso per vedere cosa succedeva e devo dire che la reazione è stata straordinaria nel senso che tutti hanno come dire soprattutto dimostrato un desiderio di riappropriarsi di questi che hanno stati dei loro precursori di fatto cioè che avevano non erano intellettuali cioè non erano né cantanti né intellettuali nati in periferia ma erano cantanti e scrittori che avevano saputo raccontare farsi contaminare dalla periferia diciamo le sorte di traduttori in un certo senso traducevano il bisogno e la voglia di espressione appunto delle periferie per tutti quanti noi altri in un certo senso spesso e volentieri hanno fatto questo giuseppe giuseppe scusate abbiamo perso per un secondo dicevi forse hanno capito che in periferia no avevano capito meglio di tanti come pochi altri che in periferia c'era una spinta vitale un'energia umana che era necessaria per la loro stessa avventura culturale espressiva capito quindi avevano un bisogno di intercettare l'umanità della periferia l'energia umana della periferia per alimentare la loro stessa creatività chiarissimo allora sperici bene cosa succederà appunto domenica 15 alla fabbrica del vapore giusto a partire dalle ore 18 alle 18 sì sostanzialmente l'idea è stata appunto quella di non fare tanto una mostra è uno spazio che con le foto di Marco Garofalo quindi c'è anche questo aspetto espositivo Marco Garofalo ha fotografato i tre dei protagonisti di questo percorso che sono Roberto attenzione Giuseppe ti abbiamo perso ancora un attimo ok scusa sei tornato perfetto dimmi pure ok dicevo che Garofalo Marco Garofalo ha fotografato tre dei protagonisti di questo percorso che sono Mass Giulie e Tusco nelle stesse situazioni in cui si erano lasciati fotografare gli annacci Gabri e Testori ovviamente in situazioni di periferia quindi tipo Testore della Ghisolf e così via e quindi c'è la parte espositiva che quella è stabile e poi il percorso se lo spazio è stato occupato è una sorta di laboratorio per lavorare sulle canzoni e la voce nel caso Testori la voce di Testori e quindi domenica noi ascolteremo gli esiti di questo laboratorio che dura che ha avuto il suo momento più clou martedì scorso e poi soprattutto vedremo ascolteremo le tre canzoni che Mass Tusco e Julie hanno scritto a partire dal loro rapporto con Gabri e gli annacci e Testori quindi mentre le prime sono delle campionature e delle ricampionature di canzoni e di voci di Testori questi tre sono canzoni che con i relativi videoclip girati da Marco Garofalo Giacomo Miraldi chiarissimo chiarissimo non si può non andare se siamo a Milano se siamo nei periferi se siamo questi tre grandi artisti di cui abbiamo parlato ma soprattutto se siamo il futuro della nostra città e per capirlo meglio magari collegandosi alla grande storia di Enzo Giannaci Giorgio Gaber e Testori grazie mille grazie mille mi raccomando l'iniziativa è la voce delle periferie nel segno di Giannaci Gaber e Testori dove inizia la città grazie mille Giuseppe buona giornata grazie buona giornata buona giornata a tutti mi raccomando ci vediamo lì allora ci vediamo lì tutti insieme appunto domenica grazie mille grazie mille grazie mille continuiamo allora e continuiamo ovviamente l'abbiamo dato anche ieri in onda però non posso che farlo anche oggi abbiamo parlato di questi tre grandi abbiamo parlato di periferie beh c'è una canzone ci sono tante canzoni in realtà del signor G che raccontano la periferia una su tutte ovviamente è quella della ballata si chiama così la ballata del ceruttigino e sai dove stava il ceruttigino stava in Giambellino e quindi lo andiamo ad ascoltare la ballata del cerutti Giorgio Gaber diceva anche era un tipo duro lo dicono anche di te i tuoi amici vero? guarda te lo ricordi il famoso non te lo ricordi però ti sblocco il ricordo come dicono le nostre amiche di Trenny ti ricordi siamo duri siamo duri sono cantanti dei budini molli no Francesco Salvi una roba roba del drive-in pensa a te Francesco Salvi era la cipolla giusto? non lo so si faceva anche no no ma Francesco Salvi no Francesco Salvi quello è in Sosa Francesco Salvi questa macchina qua devi mettere là ma si ho capito che è sono sempre forti diciamo i budini molli si chiamano potrebbe essere il gruppo in cui canta Lorenzo Masieri effettivamente posso recentemente recentemente mi è capitato una riproduzione casuale anche io ascolto Gabber però non bravo queste qua le vedo un po' le sento un po' andate purtroppo si mentre tipo canzoni come Non insegnate ai bambini e soprattutto Un uomo e una donna io vi invito a recuperare Un uomo e una donna perché è veramente una canzone incredibile la cercheremo la manderemo a noi in onda ma invece al 3317853555 arrivano i whatsapp grazie mille a Rosalba che ci saluta ci dice buongiorno a tutti io sono sveglia dalle 4 no quindi lei sveglia dalle 4 ok non come te che ti sveglia dalle 7 meno 1 e poi pensi dire a lavoro dalle 5 e già vi ascolto grazie mille a Rosalba però un messaggio per le sue colleghe sì vorrei dire alle mie colleghe che alle 5 del mattino però non si parla l'unica cosa che riesco a sentire è la musica quindi anche noi mo zitti sotto testo smettete state zitti state zitti anche voi va bene Rosalba cercheremo di parlare no sai cosa potremmo metterci l'autotune e parlare così cantare con l'autotune potremmo far così che schifo qualche news qualche nevs assolutamente prima chiaramente le cose serie quindi ricordiamo che ieri alle 18.30 si è tenuta davanti praticamente al castello Sforzesco in via Beltrami la manifestazione sostanzialmente pro-Israele in solidarietà alle popolazioni colpite dagli attentati degli ultimi giorni Sala però non c'era ed è stato fischiato è stato fischiato molto ed è stato attaccato da chi ha preso la parola in particolare dal presidente del memoriale della Shoah Roberto Yarak nel corso della manifestazione in cui se non sbaglio era presente anche l'ospite che arriverà dopo ai nostri microfoni quindi al massimo chiederemo la comunità ebraica di Milano si è scagliata contro il Movimento 5 Stelle con frasi pesanti dicendo sono antisemiti e il Movimento 5 Stelle ha risposto parole oltraggiose scuse o si va in tribunale con Giuseppe Conte al governo adottata la definizione ufficiale di antisemitismo e istituito il coordinatore nazionale contro l'antisemitismo parole forse non forse sicuramente sicuramente pesanti però era chiaramente da riportare certo il Movimento 5 Stelle dopo chiediamo allora al nostro ospite cosa è successo dopo di che non è facile essere Giuseppe Sala perché ovunque fai qualunque cosa fai ti fischiano ti rompono le scatte poi c'è quel pirla la mattina che fa il Monni Milano su Cristal Radio che ogni 3x2 ti dà addosso cioè veramente stavolta lo difendo stavolta lo difendo devo dire la verità perché comunque non è semplice nel senso adesso sì ieri sarebbe dovuto andare ma non lo so visto il casino che è successo in Consiglio Comunale forse vado anche bene a defilarsi un attimino con questo le bandiere sono sparite dalla facciata di Palazzo Marina ma come? sì di nuovo? sì di già? sì eh beh 12 ore sono rimasti tutti stanno parlando del Consiglio Comunale di Milano per quanto riguarda questa vicenda io ripeto si può vedere il Consiglio Comunale di Milano in diretta e in differita recuperatelo adesso posso permettermi di dire su 3 ore di consiglio il fatto che la metà con tutti i problemi che ci sono sia sull'esposizione di una bandiera cioè con tutto quello che succede in Corso Monforte soprattutto con tutto quello ci sono cose ben più seri con tutto quello che succede con i tigli ci sono cose con tutto quello che succede con lo stadio ah sì la sicurezza la sicurezza ecco con tutto lo succede commissionando no non l'hanno commissionato ma siccome attacchiamo così tanto basta adesso ci calmiamo un attimo facciamo a calmarci che fra mezz'ora abbiamo qui un esponente della Lega che sicuramente non andrà molto liscio no torniamo a fare i giullari che forse è l'unica cosa che siamo capaci di fare ma allora ti dico una cosa ci torniamo dopo un po' di musica perché Rosalba ha certo di stare zitti quindi dobbiamo stare zitti e mettere un po' di musica non l'ha detto lei sveglia dalle 4 del mattino lavora dalle 5 mica come noi che in Diaminon dalle 7 ci svegliamo alle 7 meno 1 veniamo qui in pigiama ci cambiamo durante le canzoni e allora diamo un po' di pausa alle orecchie vostre e quelle di Rosalba con un po' di buona musica però che ha a che fare sempre col parlato diciamo perché è voce di Madame che parte adesso qui su Crystal Radio in diretta sui 96.2 FM DAB Plus sito internet e app per iOS e Android e poi soprattutto potete rivederci su Milano All News tutti i giorni sempre qui su Good Morning Milano anche noi siamo le vostre voci invece quella di Lorenzo Masieri e quella di Fabio Ranfi sempre qui in diretta su Good Morning Milano all'interno di Crystal Radio su Crystal Radio all'interno di Good Morning Milano alle 7.52 ci avviciniamo alla pausa della prima ora ultimo blocco ultimo blocco come appunto dicevo il venerdì la gente vuole scanasarsi e cosa ci danno i giornali su questo tema? in realtà ci sarebbe poco perché non c'è mai da ridere Black Humor non c'è mai da ridere alla fine se ci pensi per me non c'è mai da ridere perché è diventata virale sul fu Twitter e ora X una foto in cui un operaio installa su un lampione le luminarie di Natale in canottiera completamente abbronzato in Liguria questo però per ricordare che a Milano davvero titola la Repubblica Milano arriva l'autunno la settimana prossima pioggia e freddo temperature giù di 10 gradi da lunedì vuoi dire che forse forse non verrà rimandata l'accensione dei termosifoni un'altra volta? questo non credo certo ti faccio vedere la foto fa impressione mettere le luminarie con sto sole e in canotta abbronzato come poche cose al mondo e quindi in Liguria in Liguria ovviamente però a Milano dovrebbe arrivare l'autunno per almeno 2-3 giorni immagino anche in Liguria però arriva per poco perché non si sa diciamo che già sono stati comunque spostati l'accensione dal 15 di ottobre al 22 22 ottobre no no è stata spostata quest'anno siamo partiti già avanti rispetto all'anno scorso è posticipata rispetto all'anno scorso quindi già la legge sarà adeguata al climate change e invece tu dici secondo me la rimanderanno ancora esatto sì secondo me sì ultima notizia prima della pausa e poi il secondo blocco che sarà un po' più serio di solito come solito che sia più o meno cosa si fa nel weekend a Milano Fabio una cosa si fa sempre la domenica si va fuori porta no si va alla polientoteca a Milano cosa si fa si fa qualche week no si corre ah si corre c'è qualche running c'è qualche running non possiamo dirla però sono concorrenti no non possiamo dirla non possiamo dirla infatti vi diciamo solamente attenzione perché come al solito la domenica mattina quando ci sono le varie running la domenica mattina voglio stare nel mio letto dichiera 33178 53555 vediamo se lo sapete dai dichiera questa canzone quando ci sono le running attenzione se dovete prendere soprattutto i tram che passano per il centro perché sono tutti completamente deviati quindi andate sul sito di ATM a vedere per bene non vi sto a fare la lista sai chi sono i veri deviati? dimmi quelli che corrono la domenica ma come ma cosa c'ha in testa? posso dire cosa c'ha in testa? Linus cosa c'ha in testa? questi siamo questi siamo io e Fabio in via Massena scusate tra qualche ora sì che gli tiro le sassate perché dico ma non se ne può più di gente che corre io non la posso più vabbè però questa ce la avete su tutti quei ciclisti ma quelli che corrono come si diceva una volta ma il PD io invece dico ma quelli che corrono la gente corre governo ladro ecco corri corri che se ti prendo no 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 massimo rispetto abbiamo dato in vacca a tutti come sempre come sempre ma tanto adesso si va in pausa quindi potete ripulirvi le orecchie con la buona musica di Cristal Radio e anche il giornale radio noi torniamo subito dopo qui in diretta sempre per raccontarvi Milano la città metropolitana e anche poi appunto l'arrivo dei nostri ospiti adesso i Black Eyed Peas con Guarantee Kate Bash running up Ted Hill corri su per questa collina o per quella dete quella ma l'aveva fatto anche ieri si può essere va bene grazie mille no non ce l'ho questa mi manca come dite voi i giovani anzi come dici solo tu rata sì che prendi su tutt'altro perché sono lo simoro del giovane come sia appunto 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 8-13 minuti bentornati qui a una puntata di Good Morning Milano questa mattina con voi il solito Lorenzo Masieri il solito Fabio Ranfi che aprono la seconda ora di trasmissione con ancora qualche notizietta e poi qualche notizia scoppiettante che arriva scoppiettante no io voglio ritornare su una cosa torniamo su cose serie allora vai serie l'incrocio di Corso Monforte allora io adesso ieri ho screenshottato parola da giovane screenshottato ho fatto un fermo immagine diversi posti sui vari social Arianna Censi Arianna Censi cosa dice il profilo di Arianna Censi assessora alla mobilità del comune di Milano assessora alla mobilità sono molto sorpreso dal fatto che il ministro trovi il tempo di occuparsi di un incrocio nella città questo per me è tutto altro discorso paragrafo successivo sono normalissimi incroci che trova in tutte le grandi città europee e servono a garantire la maggior sicurezza possibile per questo motivo ce ne saranno molti a Milano prossimamente voglio sperare che non si metta alla guida prima di fare un ripasso del codice della strada sempre pacate le risposte va l'attacco Arianna Censi commento in mezzo ai commenti delle varie persone ne trovo uno Elena Grandi che non è una persona qualunque è l'assessora verde del comune di Milano Elena Grandi commenta l'assessora del verde commenta un post su facebook dell'altro assessore esattamente chiamarvi da un ufficio all'altro no a me piace molto priorità le bici come a Berlino a Francoforte e in moltissime altre città europee questo è quello che dobbiamo fare va beh altri commenti da leggere altre notizie altre notizie ok vai 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 allora questa vicenda dell'incrocio di Corso Monforte è veramente cioè sta diventando veramente quasi ridicola benvengano le bici bellissima la città a misura di bici lo dice uno che tutte le mattine posso confermare viene in bicicletta io sono molto più green di chi si professa green con la bici degli altri mettiamo così attacco frontale di Masieri no siccome vengo tacciato di non avere coscienza no invece c'è la vita no sì per quanto riguarda io continuo a dire che è la narrazione che non mi piace poi per il resto siamo tutti d'accordo no benvengano eccetera il problema è che noi cioè per le strade che abbiamo per la densità di popolazione che abbiamo in riferimento alle strade che abbiamo soprattutto purtroppo è ancora difficile pensare di poter essere come queste grandi città poi se domani si dovesse riuscire a fare una roba del genere in ogni incrocio di Milano goduria sarebbe bellissimo goduria insomma e ci stanno secondo me un po' le polemiche sul primo poi se ne arrivano tanti altri magari appunto le polemiche scemeranno la gente capisce che funziona e siamo qua a parlare come sempre del nulla perché poi alla fine è questo il problema andiamo con un po' di musica adesso è il momento di The Weekend con Take My Breath 8 e 16 minuti sempre qui su Crystal Radio questa è Good Morning Milano buongiorno Milano buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando 331-78-53-555 scriveteci va bene abbiamo parlato della giunta comunale che si sta facendo le giunte su Facebook nei commenti scherzi a parte perché la vicenda cioè si parlasse d'altro benvenga il problema è che si parla sempre di questo incrocio che da appunto da qualche giorno con tutti i problemi che ci sono sta monopolizzando il dibattito pubblico a Milano una delle frasi che vado di più è ma con tutti i problemi che ci sono è che con queste cose diventa reale perché adesso va bene tutto ma è una settimana che parliamo di questo incrocio una settimana che parliamo di questo incrocio due anni che vogliamo che lo sarei San Siro cioè anche basta nel senso cerchiamo di evolverci e andare avanti Regione Lombardia anche quest'anno la giunta regionale ha approvato 14 milioni per abbonamenti a tariffe agevolate per consentire sia alle persone anziane che alle persone con disabilità di viaggiare sul trasporto pubblico sui mezzi del trasporto pubblico locale le tessere rilasciate in Lombardia per il 2023 sono più di 58 mila ci sarà immagino il bando sarà già uscito vedete se riuscite a starci dentro magari ci sarà sicuramente un range di dettagli magari un over 60 non c'è click day qui non c'è click day basta fare domanda alla signora sono sempre 58 mila e quindi non so non neanche ci sono per tutti sicuramente anche perché 58 mila in tutta la regione si però bisogna vedere le persone cosa si intende per persone anziane comunque tu non rientri sei vecchio dentro ma non rientri non rientri Francesco Rocca consigliere pensiamo a Francesco Mandelli il non giovane per quello è perché parlavo proprio di te che sei vecchio dentro mi sei collegato con il nongio un saluto al nongio che sicuramente in ascolto ci può mandare un whatsapp al 331 78535555 Francesco Rocca che non è il calciatore non è credo neanche lo sciatore no il canoista Rocca non è l'attuale Rocca sicuramente attuale presidente di regione Lazio ah non lo so si può essere ma sostanzialmente consigliere comune di Milano in quota fratelli d'Italia scrive ieri sui suoi profili social a proposito di biblioteca europea ad oggi in via Monte Ortigara sono stati tagliati 90 posti auto nell'area che poi dovrà ospitare appunto il cantiere della biblioteca europea eccetera eccetera chiediamo all'amministrazione comunale di fare chiarezza e di garantire 90 posti auto ai residenti e sottolineando che è presente nell'area un platano storico da tutelare sottolinea allora tuteliamo gli albi o tuteliamo i posti stage delle macchine non l'ho capito è surreale tutto surreale in questa città sta diventando oramai non l'ho capito mi piace anche questa polemica mi piace anche il termine tagliati come i tigli di Bagliamonte i posti auto però posso dire è anche vero che 90 posti auto non sono pochi non sono pochi la gente che torna a casa effettivamente non sono pochi lo so benissimo io che quando torno a casa il martedì sera e il mercoledì c'è il mercato devo metterla in dergano non è facile come non è facile affrontare la mattinata ma noi cerchiamo di darvi una mano nell'affrontarla nella migliore delle maniere e come grazie anche alla buona musica di Cristal Radio e allora alle 8 e 23 minuti di questo venerdì 13 ottobre oggi è venerdì 13 tra parentesi ci andiamo a ascoltare Anna Lisa con Mona Moore sempre qui in diretta su Cristal Radio a Good Morning Milano oh yeah 8 e 23 minuti ben ritrovati ben tornati qui su Cristal Radio e siamo qui allora nella seconda la seconda l'ultima mezz'ora scusa l'ultima mezz'ora che come sapete se ci seguite è la mezz'ora degli ospiti e abbiamo qua i nostri microfoni oggi il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Milano Alessandro Verri buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori buongiorno buongiorno consigliere grazie di essere qui allora so e te lo dico subito Lorenzo do subito la parola a te perché so che hai tante domande da fare al consigliere allora apri la tribuna politica di Lorenzo Masieri tu mi hai chiamato qua per la questione politica io ti ho chiamato qua per questo ti ho chiamato qua per questo sì 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 perché io mi sono no scherzo vai vai Lorenzo allora sono passati da pochi giorni due anni dall'inizio dei lavori sì tu come opposizione Sala come sindaco seconda amministrazione Sala come siamo messi un primo bilancio appunto del vostro lavoro come opposizione e del secondo mandato Sala poi andremo a toccare per bene i vari temi allora ammetto che fare opposizione non è semplice in questo consiglio comunale perché ma come anche fare la maggioranza devo dire che il bilancio per quanto riguarda il consiglio è un po' triste per il semplice motivo che questa giunta non ha mai ascoltato il consiglio comunale sono stati troppi ordini del giorno sia della maggioranza ma soprattutto dell'opposizione ai quali non è stato dato seguito quindi dei temi sui quali noi ci eravamo impegnati che abbiamo votato che abbiamo votato favorevolmente da parte di tutto il consiglio e che purtroppo però abbiamo visto che questa amministrazione fatica a dar seguito un esempio faccio un esempio su tutti visto che in questi giorni un po' il tema è molto caldo avevamo proposto come opposizione la posizione davanti a Palazzo Marino di uno striscione alle vittime iraniane della violenza del regime iraniano e questa amministrazione non ha mai dato seguito ma questo come può essere gli alberi in piazza Baiamonti che sono stati comunque tagliati che è stato un ordine del giorno proposto dall'opposizione insieme alla maggioranza come tanti altri temi che purtroppo questa amministrazione non ha mai voluto ascoltare che arrivano da parte del consiglio noi dal nostro canto stiamo cercando di far emergere tutte quelle che sono le criticità che stanno venendo a galla anche da sole perché questa amministrazione sta dimostrando ormai alla città di essere un po' stanca di amministrare la nostra città e lo stanno dimostrando i tanti cittadini che scendono in piazza per protestare per scelte folli faccio un esempio la settimana prossima nel solo quartiere del municipio 4 ci saranno ben tre manifestazioni in tre giornate diverse fatte dai comitati dei cittadini per protestare contro le fogli scelte della mobilità che hanno sospeso e modificato gli autobus della nostra città anche lì in consiglio comunale maggioranza e opposizione si sono espressi in una direzione che va nell'ascolto dei cittadini ovviamente non negli ordini del giorno proposti dall'opposizione quindi proposti in particolare in questo caso dalla Lega e abbiamo trovato davanti un muro un muro e i cittadini allora scenderanno in piazza con noi perché oggettivamente non ne si può più ti posso dire Alessandro il fatto dice non è facile essere all'opposizione ma 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 con il fatto che la giunta green no no era 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 Napolet era certo la giunta green che toglie di governare non lo stanno a questo infatti mi è stupito una cosa perché appunto abbiamo fatto questo ragionamento con questa giunta green che poi cosa fa che poi abbatte i tigli dai amonti è facilissimo fare l'opposizione invece giustamente tu hai portato hai messo la nota su una cosa l'opposizione non deve solo opporsi e dire sbagliate ma anche magari fare delle proposte e tutto questa parte diciamo il lavoro invece è complicato io sto dicendo infatti la domanda era com'è l'opposizione in consiglio comunale è difficile nel senso che quando tu proponi ti trovi davanti un muro e poi è chiaro che sui giornali a livello elettorale diciamo a livello elettorale può essere tutto più facile però anche l'elettore dice ma noi ti abbiamo votato quindi quando sei lì mi aspetto che porti a casa e io voglio portare a casa dei risultati il problema è che davanti mi trovo un muro no quello sicuramente nell'ultimo mese però constatiamo che nessuno è d'accordo con le scelte della giunta assolutamente siccome hai citato la mobilità e le proteste all'interno del municipio 4 togliamoci subito il pensiero l'incrocio di Corso Monforte grande tema abbiamo sentito il tuo intervento in consiglio comunale Mazzei ha usato delle parole qualcuno ti ha fatto arrabbiare insomma il consigliere Mazzei ha detto che gli automobilisti sono tutti ignoranti io avrei qualcosa da ridire su queste affermazioni primo perché sul tema specifico della diciamo dell'incrocio di Corso Monforte mi sembra più come ho detto anche in consiglio comunale mi sembra più che altro che i tecnici e l'amministrazione abbiano voluto dare estro alla propria creatività ha voluto forse copiare qualche quadro di qualche artista come Picasso che insomma con delle geometrie particolari credo una cosa che si complica di più la vita all'automobilista se si riempie di cartelli o di segnalazioni la strada perché tu sei attento a guardare la strada devi guardare dove gira uno dove gira l'altro dove il cartello che cosa indica il cartello che cosa indica quell'altro cartello e quindi chiaramente si complica di più la vita dall'altra parte non credo che siano tutti ignoranti gli automobilisti ma soprattutto non credo che siano tutti intelligenti i ciclisti perché purtroppo come ho detto anche in consiglio troppo spesso vediamo ciclisti che vanno su marciapiede troppo spesso vediamo ciclisti che vanno in contromano troppo spesso vediamo ciclisti che passano con il rosso quando c'è il semaforo troppo spesso vediamo ciclisti che in barba al codice della strada pensano di poter essere i re e i padroni della strada e molto spesso si rischia tanto e rischiano ancora di più loro visto che sono anche tra l'altro parte della mobilità diciamo fragile della nostra città e quindi io prima di dare degli ignoranti a qualcuno penserei prima di tutto a lavorare e cercare di facilitare la vita agli automobilisti e ai ciclisti questo spesso lo denunciamo anche noi sì dopo di che denuncio anche se avete visto che è successo in Corso Bras qualche giorno fa della Corvaglia che ha preso in pieno il dosso della ciclabile lì però c'è un limite anche allo scibile umano dire che non lo vedi ahimè io faccio anche un po' secondo me il Marseille ha un po' esagerato dei toni in realtà di fondo forse la verità c'è nel senso che siamo un po' tutti troppo distratti quando andiamo in giro in strada si rivediamo la macchina si rivediamo la bicicletta se è magro sicuramente attenzione anche a piedi vediamo gente che passa e attraversa proprio in Corso Monforte ieri mi è passato davanti uno che era il telefonino ma era rosso e dico di fronte a Famagosta e sono successe anche grossi disastri perché la gente attraversava a piedi in una strada che è tre corsie da una parte tre corsie dall'altra quindi insomma siamo forse un po' troppo distratti magari perché leggiamo sul cellulare le cose che si scrivono gli assessori no scherzo a proposito di ciclabili ricordiamo che c'è stato un blitz ieri sera sul Ponte della Ghisolfa che ha portato a disegnare per la quarta volta una pista ciclabile clandestina chiedendo al Consiglio Comunale sostanzialmente di farla crediamo che con la promessa della Giunta da un po' di anni che si debba fare questa cosa però non si capisce come si può fare ma non si capisce perché non viene fatta i cittadini devono andare a disegnarsi da solo quindi le strisce adesso per strada come funziona io spero e mi auguro che la cittadinanza capisca che sono stati presi in giro che all'ultima elezione abbiano completamente sbagliato hanno sbagliato a eleggere un sindaco che poi è una Giunta quindi che poi non ha fatto gli interessi dei cittadini credo che per esempio sulla sulla Ghisolfa fare la pista ciclabile visto che era un impegno che si sono presi non l'ho preso io io credo che quando ti prendi un impegno poi lo devi mantenere io non sarei particolarmente d'accordo perché comunque è una strada abbastanza ad alto scorrimento quindi bisogna comunque studiarla bene quanto meno e non secondo me non basterebbe solo disegnarla ecco questo deve essere un primo punto però se tu ti prendi un impegno come attenzione la ciclabile in corso Sempione o la ciclabile di Monterosa cioè ci sono degli impegni che questa amministrazione si è presa e che non ha mai rispettato quindi io spero che i cittadini milanesi si sveglino dal torpore di sinistra e possono votare la prossima volta qualcuno che risponda al più alle esigenze e alle loro richieste l'appello è stato fatto siamo fuori dalla parco 11 quindi possiamo lasciarglielo fare giusto? ah poi comunque martedì abbiamo ospitato Pedro Oni ah sì infatti quindi abbiamo bipartisan 846 minuti ritorniamo qui in diretta bentornati 3317853555 grazie dei whatsapp che stanno arrivando grazie Katia e Katia Rosalba ancora per il buongiorno speriamo di non dargli più fastidio parlando fuori orario perché lei si sveglia presto ci ha detto quindi dobbiamo parlare sotto voce sotto voce piano piano in punta di piedi come diceva qualcuno e invece no parliamo di quello che succede in comune lo facciamo con chi Lorenzo? con Alessandro Verri capogruppo leghista al consiglio comunale di Milano secondo blocco non possiamo non aprirlo con il tema sicurezza circa una decina di giorni fa come sapete come abbiamo ripetuto più volte l'ex capo della polizia Gabrielli è stato nominato delegato al sindaco per la sicurezza e la coesione sociale vado al dunque si tratta di un commissariamento di Granelli? assolutamente sì quantomeno devo dire che il dato politico è che questa amministrazione si è resa conto di non aver gestito bene il tema della sicurezza di non saper gestire il tema della sicurezza e quindi evidentemente l'assessore ha delle responsabilità ma chiaramente ce le ha soprattutto il sindaco che ha scelto questo assessore e quindi la nomina di Gabrielli io la vedo assolutamente in questa direzione a Milano è diventato un far west dover nominare un delegato del sindaco per la sicurezza significa ammettere le proprie responsabilità io dico meglio tardi che mai dall'altra parte vediamo che cosa farà appunto l'ex capo della polizia Gabrielli però sicuramente io fossi in granelli mi sarei già dimesso ricordiamo anche che recentemente è uscito il report del sole 24 ore dove si parla appunto di questa dei numeri che ci sono a Milano è la capitale è la capitale dell'insicurezza siamo anche da i soliti discorsi da contestualizzare è complicato un tema complicato però certo allora il sindaco ha detto tra l'altro diciamo sempre il sindaco ha detto non c'è un'emergenza sicurezza a Milano ma in realtà quelle lì sono le parole del ministero degli interni Piantedosi mentre Fontana se non sbaglio è stato molto critico con le parole di Piantedosi certo è un tema da guardare da guardare per quanto riguarda invece ho letto sui social che hai chiesto una commissione speciale per analizzare lo stato di manutenzione di tutti gli edifici comunali dopo potremmo dire la giudia sventata eh no no noi avevamo chiesto dopo l'RSA dopo i casi dell'RSA che nella zona del Corvetto ha preso fuoco e però diciamo c'era una grandissima necessità perché è quello a cui ti stavi riferendo te e sulla quale noi continuiamo perché di fatto è stato anche lì come vedete abbiamo votato deve essere attivato ma la sinistra continua a darci del lungo continua a rinviare la diciamo l'istituzione di questa commissione che è stata decisata da tutto il consiglio comunale che cosa dovrebbe andare a fare questa commissione andare ad analizzare lo stato di manutenzione di tutti gli immobili pubblici pensate che soltanto qualche giorno fa in una scuola nella zona del quartiere QT8 è crollato un tetto per fortuna per fortuna è crollato di sabato quando i bambini non c'erano se no veniva in testa il tetto ai bambini è crollato in una in una classe tra l'altro nonostante le denunce da parte degli studenti scusate delle famiglie di quella scuola che da anni denunciavano lo stato manutentivo pessimo di quell'immobile e nonostante tutto non si è fatto niente e la scuola è crollata ma questa scuola come altre scuole come altri immobili versano in condizioni di assoluta pericolosità noi crediamo che sia meglio prevenire che curare e quindi con una commissione vogliamo andare ad analizzare ogni singolo stabile perché crediamo che l'amministrazione per prima nei propri luoghi deve mettere in sicurezza le persone che ci lavorano ci vivono o ci semplicemente la frequentano per studiare come nel caso delle scuole chiarissimo mi sembra una cosa comunque più che condivisa sulla situazione dell'edilizia pubblica in generale bisogna mai chiudere abbassare la guardia bisogna sempre stare bene a controllare quindi benvengano questo giorno speriamo appunto che vengano poi seguiti da tutto l'arco costituzionale mi viene da dire del Consiglio Comunale ma soprattutto poi invece dalla Giunta che appunto come dicevi ogni tanto vi ascolta poco dicevi tu lamentavi non ci ascolta proprio ma dicevi però che su questo è abbastanza bipartisan perché anche dicevi la maggioranza anche la maggioranza devo dire che anche la maggioranza non viene ascoltata ma non credo che sia una una consolazione questa chiarissimo io devo però entrare a darvi una butta notizia siamo arrivati alla fine siamo arrivati in chiusura eh sì siamo in chiusura siamo abbiamo 50 secondi per salutarci e poi salutare soprattutto il nostro ospite e ringraziarlo lascio a te l'incommenza ringraziamo allora Alessandro Verri capogruppo leghista al consiglio comunale di Milano velocissimo velocissimissimo sono andate via le bandiere da Palazzo Marino e beh al sindaco Sala non piace dare sostegno ad Israele evidentemente chiudiamo però bella stoccata diciamo va bene grazie mille consigliere buon lavoro grazie a voi grazie a tutti gli ascoltatori